Ciao amici, l'anguria fa estate, lo sappiamo tutti. Oggi scopriamo che l'anguria fa anche dimagrire. L'anguria è uno degli alimenti più amati dell'estate e non a caso è perfetta per chi ha voglia di rimettersi in forma. Madre Natura ci fornisce gli alimenti giusti adatti alle esigenze di ogni stagione. Fresca, gustosa, con un alto potere snellente, l'anguria è il frutto ideale per sgonfiare la pancia e dimagrire fino a 5 kg. Se ti piace l'idea metti subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. L'anguria o cocomero è ricca d'acqua e sali minerali, ha pochissime calorie, circa 15 ogni 100 grammi e un alto potere saziante. Ha una polpa naturalmente dolce che la rende perfetta come spuntino o dessert goloso. L'anguria è ricca di vitamina A, B1, B6, C oltre a minerali come potassio, magnesio, calcio, fosforo, zinco, ferro e manganese. In particolare l'alto livello di potassio e vitamina C rendono l'anguria ottimale anche per gli sportivi e le donne in gravidanza. Contiene anche carotenoidi che proteggono la pelle e facilitano la bronzatura in estate. L'anguria contiene l'icopene, una molecola antitumorale che controlla la divisione delle cellule. Ne ho parlato in questo video perché è un vero alleato della salute. Andatelo a vedere dopo. Vuoi approfondire questi argomenti e incontrarmi di persona? Partecipa agli eventi, vacanze e soggiorni di benessere che organizzo in tutta Italia. Prenota un coaching di naturopatia personalizzato con me e ottieni il massimo per il tuo benessere. Insomma, la nostra anguria è considerata un super alimento ideale anche per la bellezza perché idrata la pelle idratando l'organismo, contrasta l'azione dei radicali liberi e rallenta l'invecchiamento cellulare. Sappiamo tutti che l'anguria è diuretica ma è buono sapere che è anche drenante quindi è l'ideale per perdere peso e contrastare la cellulite soprattutto se viene inserita in un regime dietetico. Come funziona la dieta dell'anguria? Iniziare la giornata con una tisana o tè verde, una macedonia di frutta con la banana se avete molta fame e un bicchiere di anguria frullata. Come spuntino a metà mattina e metà pomeriggio un'altra fetta di anguria ma con fantasia in forma di granita, frullati, centrifuga o gelato. Ma non solo, lo sapevate che con l'anguria si possono fare delle incredibili ricette dolci e salate? Ne ho fatto un video molto stuzzicante, trovate il link in descrizione, andate a vederlo perché merita davvero. Per vedere tanti altri video sui migliori cibi per dimagrire basta iscriversi al canale, è facile, con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. A pranzo e a cena preferire proteine magre in abbondanza, accompagnate da verdure cotte e crude con un po' di riso integrale al posto del pane. Se desiderate chiudere il pasto con qualcosa di dolce, indovinate cosa prendere? Una bella fetta di anguria. Esatto, qui è proprio concessa. Questo regime è ipocalorico, per circa una settimana e perdere fino a 5 chili, con ottimi risultati su pancia gonfia, cellulite e ritenzione idrica. Naturalmente bisogna bere tanta acqua naturale, fare movimento, evitare di mangiare dolci, fritti o bere alcolici e bibite gassate. Come sempre, se avete problemi di salute verificate prima con il vostro specialista se questo programma va bene per voi. Mangia sano e dimagrisci! Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Ogni giorno sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente! Ciao!